Buon pomeriggio a tutti, spero che ci sia il collegamento attivo con gli amici da casa. Siamo all'ultima sessione, giornata intensissima, siamo tutti un po' stanchi, però vi ringrazio veramente tutti per aver partecipato. Partiamo quindi con quest'ultimo tema del mondo retail. In ordine alfabetico, Angelo Campani, direttore generale di Creden, prego Angelo. Sì, sì, vi chiamo Alessandro Foti, amministratore delegato Fineco, Liliana Frattini Passi, Liliana, direttore generale di CBI, Marco Siracusano, amministratore delegato di Poste e Pene, sempre Marco Matarantola, amministratore delegato di FinDomestic. Prego, vi è qui, non voglio farti cadere, sarebbe antipatico. Allora, vi faccio una brevissima premessa e poi passo subito la parola agli ospiti, un parterre in tutta onestà straordinario. In quest'ultima sessione vorremmo affrontare il tema del retail banking. Retail banking dove naturalmente viene da pensare che l'intelligenza artificiale, viste le quantità, abbia un impatto straordinario. Io però vorrei che questo tema venisse ben approfondito, nel senso che, se parliamo di machine learning, questa è una mia opinione personale, quindi tutto quello che ha a che fare con i numeri, con le quantità, con i processi di onboarding, con i processi di valutazione, la digital footprint, la categorizzazione delle transazioni legate all'open banking, piuttosto che tutto il mondo frodi, credo che su questo mondo, negli ultimi anni, si sono fatti passi da giganti, poi le frodi tristemente continuano a esserci, però le modalità con cui dominiamo questi fenomeni si sono evoluti in modo straordinario. Quindi questo sarà un primo tema dove concretamente vorrei capire, sia da parte delle banche più commerciali, da parte delle banche più specializzate, pagamenti, credito al consumo, che cosa si è fatto. Dopodiché c'è invece un tema che è il futuro, o meglio, è qualcosa che stiamo vivendo in questo ultimo anno, che è il mondo dell'artificial intelligence generativa, dove ci sono sicuramente delle idee in corso, penso che ognuno di voi qualcosa abbia in pista e saremo curiosi di sapere che cosa. Abbiamo indicato tre temi, tutto il mondo dello storytelling per i financial advisory, credo che tutto quello che è stato fatto a supporto del cliente sia rimasto un po' nel cassetto, nel senso che alla fine non mi sembra che si sia evoluto così tanto il dialogo cliente-consulente. Dietro le quinte le attività sono state tantissime, le analisi tantissime, poi a terra, non so quanto sia arrivato, tutto il mondo chatbot, che oggi ancora soffre di qualità, ma che invece potrebbe evolvere in modo straordinario, e da ultimo tutto quello che è one-to-one marketing, che vuol dire il targeting specifico sui bisogni del cliente, che penso che andando ad analizzare tutti i dati possibili, anche Word o immagini, si possa fare molto. Questa, ripeto, sono solo ipotesi. Il tema vero è, rimanendo nella massima concretezza che ci contraddistingue da questa mattina, capire da voi cosa state facendo. Quindi io partirei immediatamente da Alessandro Foti, Fineco, una delle, per me, la banca per eccellenza digitale, partita col trading, cos'è, più di vent'anni fa, passata tramite il banking online, poi well management, quindi ormai copre un po' tutti gli aspetti del banking. Per voi credo che machine learning sia di casa, la sensazione che in piazza Durante, in tutti gli uffici, la tecnologia sia di casa. Però se ci racconti meglio come la usate, quali sono le aree dove negli ultimi anni è impattato di più, giusto per far capire come una banca come la vostra la usa tutti i giorni. Ma dunque, allora, innanzitutto, quello che possiamo dire è che la parte, chiamiamola, di machine learning, in realtà, appunto, come giustamente Marco ha fatto notare, è tra di noi da parecchio tempo, perché, direi, quello che in realtà adesso è cambiato e che sta dando una grande accelerazione è la capacità computazionale, che chiaramente è esplosa e quindi apre degli orizzonti che prima magari non erano percorribili, proprio perché. L'altro aspetto molto rilevante è che noi in azienda abbiamo sempre fatto dell'utilizzo dei dati uno degli elementi centrali e quindi abbiamo sempre le nostre decisioni, voglio dire, il fatto di andare in una direzione piuttosto che in un'altra, come approcciare i clienti così, sono sempre stati guidati molto dai dati. È chiaro che adesso entriamo in una nuova dimensione, perché la profondità e l'accuratezza di quello che riusciamo a fare è decisamente superiore. In particolare adesso quello su cui noi stiamo accelerando sono sostanzialmente tre direzioni. La prima è chiaramente un miglioramento di quello che è la produttività dei consulenti finanziari, perché molto semplicemente noi tramite la gestione dei dati siamo in grado di fare molte delle attività che normalmente dovrebbero fare i consulenti che però in realtà noi vogliamo che sempre più siano dedicati a uno, gestire la relazione del cliente e due, acquisire nuovi clienti. La seconda direzione è la parte di customer care, dove chiaramente non è che stiamo andando nella direzione di creare l'avatar che gli esistenti perché questo sarebbe una follia, ma visto che comunque il nostro è un ecosistema incredibilmente complesso, permettegli di interagire con questo ecosistema in maniera molto più efficace e quindi alla fine dare un'esperienza al cliente decisamente superiore. L'altro aspetto su cui stiamo investendo molto è quello che è un processo di miglioramento proprio dell'interazione all'interno della banca, proprio per cercare di efficientare quelli che sono proprio i nostri processi interni appunto la gestione dei dati permette un dialogo tra le varie funzioni che è molto più efficiente perché parte da dati oggettivi e questo riduce clamorosamente quelle che sono le tipiche frizioni del tipo ma io la penso in un modo, tu la pensi, no guarda qui ci sono dei numeri, dei dati e qui c'è poco da dire, c'è poco da pensarla, questo è un dato oggettivo. Comunque interessante che due su tre siano legati al rapporto col cliente e al servizio al cliente. Poi chiaramente il tema costi, lo dico per tutti, è dominante quindi è indispensabile affrontarlo però... Però sarebbe un clamoroso errore approcciare questo aspetto con un'aspettativa di riduzione dei costi. Cioè qui quello che queste capacità computazionali anche autogenerative possono dare è un aumento straordinario della produttività che non vuol dire lavorare di più, vuol dire lavorare meglio in maniera più efficace e soprattutto migliorare in maniera eccezionale l'esperienza del cliente. Questo poi alla fine si traduce, vuol dire, l'aumento della produttività è il contraltare della dimensione costi, è il modo intelligente di ridurre i costi e la customer experience migliorata sul lungo periodo ti porta a molti più ricavi. Sul tema della qualità, passo ad Angelo, quindi Credem, una banca del territorio. Oggi si è parlato molto di banche del territorio, rapporto col cliente, un'integrazione tra tecnologia a sinistra ma relazione forte, locale a destra. Tutto molto bello, però penso che per una banca del territorio introdurre queste tecnologie sia comunque complesso, no? Soprattutto quando gestisci le famiglie, gestisci delle filiali, gestisci del personale di filiale, la cosa non è scontata. Voi come state evolvendo da questo punto di vista? Mi sta detto che la qualità per voi è sempre stato il mantra in Credem. Assolutamente sì, grazie per la domanda. Devo dire che consideriamo queste opportunità, questi tool, la tecnologia, come un elemento talmente pervasivo che, se mi consenti, faccio una breve premessa per condividere anche con voi il modello organizzativo che abbiamo adottato. perché noi non crediamo che sia tanto e solo un tema, l'intelligenza artificiale, il machine learning, di un nucleo in una torre d'avorio, ma che sia fondamentale un coinvolgimento molto allargato delle persone. Noi tra l'altro abbiamo costituito una funzione accentrata in cui abbiamo messo insieme il tema dei dati, il tema dell'intelligenza artificiale, il tema dell'innovazione, e proprio con l'obiettivo di, da un lato ovviamente, fare la governance, è un tema anche regolamentare molto importante, ma soprattutto studiare, condividere, diffondere dei tool di intelligenza artificiale, degli use case e fare cultura. Questo è quello che noi chiamiamo hub, che è accentrato. Poi noi abbiamo 18 spoke nel gruppo, cioè dei nuclei decentrati, che, diciamo così, realizzano nelle loro aree gli use case. E questo è fondamentale, perché solo chi è dentro i processi, solo chi è nella gestione del prodotto, riesce a individuare tutte le occasioni in cui l'intelligenza artificiale diventa efficace. Per andare a qualche caso più applicativo, ma davvero il tema di come affrontare con le persone, con il modello organizzativo è fondamentale, ovviamente il tema dei costi dei processi lo considero un po' acquisito e comunque, diciamo, è abbastanza evidente, mentre invece con la relazione col cliente è davvero molto importante, perché ti consente di realizzare una personalizzazione del, diciamo così, nelle offerte al cliente in modalità real time. Questo è un tema decisivo, decisivo perché ti fa avere sulle tue azioni commerciali un conversion rate, cioè un tasso di successo molto importante, se rispetto a certi comportamenti del cliente, che possono essere, diciamo, transazioni, possono essere altre informazioni, se tu le intercetti, hai dei customer journey che ti consentono poi sulla base di quella iniziativa di veicolare sul cliente nel canale giusto, spesso digitale, se vuoi essere davvero reattivo, è fondamentale. Guardate, vi faccio un esempio di un caso di cui cominciamo a avere qualche dato un po' più importante, il tema del bisogno dell'accumulare il risparmio. Veniamo da una storia in cui, come marketing, cercavamo i clienti tendenzialmente che non avevano il prodotto per fargli la proposta. Tasso di redemption sotto l'1%. Poi siamo passati a modelli un po' più preditivi, quindi mescolando, oltre all'assenza di prodotto, altre informazioni sul cliente, l'età, il patrimonio, eccetera, eccetera. Tasso di redemption bassissimo, sotto il 3%. Adesso abbiamo aggiunto, e tutto questo costruendolo con degli algoritmi, un evento che sembra banale, ma che ha fatto la differenza, che è l'accredito del primo stipendio. Sommando, e quindi arrivando, diciamo così, ad avere un algoritmo a questo punto completo, siamo all'8% di conversion. Faccio un altro esempio, poi Marco interrompimi se la tengo troppo lunga. Il bisogno di finanziamento, qui magari poi Marco, Tarantola farà, credo, considerazioni ancora più approfondite. È chiaro che è un bisogno, diciamo così, molto importante per una banca commerciale. Noi da tempo, utilizzando appunto delle tecniche, degli algoritmi, abbiamo costruito quello che noi chiamiamo IMA, Indice di Monitoraggio Andamentale, che sostanzialmente dà il profilo di rischio del cliente. E, adesso non vi faccio perdere tempo, non lo abbiamo, sulla base di tutti questi dati, che non sono solo tipici tradizionali del credito, ma sono anche legati, lo citava Marco prima, alla categorizzazione, al collegamento tra i diversi dati, ci restituisce dei cluster di clienti, logica semaforo, verdi, gialli, rossi. Avete già capito cosa vuol dire questa, diciamo, clusterizzazione. E questo indicatore ci dà un aiuto di early warning per i rossi, ma ci dà un grande, invece, supporto per, diciamo, essere proattivi sul cliente sui verdi e sui gialli, ovviamente in modalità diverse. A questo abbiamo aggiunto quello che noi chiamiamo, scusate, noi siamo amanti delle sigle, il MAC, cioè il massimo accordato concedibile, che ti dice già un predeliberato di credito su quel cliente privato. Quindi, se ho il customer journey che mi coglie il bisogno di finanziamento del cliente, o perché ha fatto un certo movimento, o perché ha un certo andamento del suo bilancio mensile, capite che c'è già collegato una modalità diretta di poter soddisfare questo bisogno. Quindi... Vedi che mi interrompi. No, non volevo interrompi. Quello te la lascio per dopo, nel senso che il interessante è questo fatto che uno pensa Credem, mondo risparmio, invece, anche voi, ma lo sappiamo bene, perché lavoriamo tanto con voi, lato credito state facendo molto, no? In termini di automazione, digitalizzazione, non dico digital lending, che è ancora una bella parola di cui oggi abbiamo sentito, ma i risultati li vedo ancora in fieri, però insomma ci state arrivando. Però sul tema credito non posso, come hai detto, anticipare e passare la parola a Marco Tarantula, leader sul mercato italiano del credito al consumo, credo che voi, senza tecnologia, senza machine learning, non potreste neanche esistere, no? Poi lo stesso tema lo porrò a Marco Siracusano, perché con, non so quante milionate di carte, senza tecnologia non potreste esistere. Ma nell'ultimo periodo, dovessi dire Marco Tarantula, negli ultimi anni, questa artificial intelligence che ho definito tradizionale da stamattina alle 9, come si è evoluta? Come hai visto fare i passi su che ambiti? Customer acquisition, qualità, velocità, frodi, che è un temaccio che tutti i giorni dobbiamo affrontare? Ma allora, innanzitutto grazie Marco e buonasera a tutti. Faccio una premessa, perché poi mi permette di essere un po' più incisivo nel rispondere alla tua domanda. Finomestic è nato, è stato, diciamo, lo statuto di Finomestic è stato firmato, è stata costituita a settembre del 1984, quindi facciamo 40 anni quest'anno. E tutta la sua storia che oggi ci porta a avere una quota un po' da market leader del mercato è stata tutta basata sull'innovazione, sulla crescita, sulla cavalcare un mercato al consumo, di credito al consumo che diventava sempre più importante. Questo ci ha permesso anche negli ultimi anni di un po' cambiare pelle, di cominciare a cambiare pelle, perché la digitalizzazione che era un po', fatemi dire, la parte che è un po' primordiale, prodromica, rispetto a quello che stiamo vivendo adesso, ci ha permesso di cominciare ad esempio a utilizzare la licenza bancaria per aprire conti correnti, fare conti di deposito, quindi noi stiamo diventando sempre di più il partner nelle famiglie, non soltanto nel momento del bisogno del credito. Questo è importante perché poi l'utilizzo dei dati ci permette tramite il concetto di daily banking a poter fare tante altre cose rispetto a quelle che già facevamo abbastanza bene prima. Perché questo è importante? Perché l'intelligenza artificiale fa da booster rispetto a questo percorso che abbiamo all'interno dell'azienda. Noi in questo momento abbiamo circa 32 diciamo utilizzi di intelligenza artificiale non generativa ancora, stiamo lavorando, ma 32 su quella tradizionale, 12 sulle attività di rischio, quindi abbiamo meccanismi che ci aiutano a migliorare un po' come diceva precedentemente Angelo, la capacità predittiva, la capacità di conoscenza dei clienti, di profilazione dei clienti e questo ci permette di essere sempre più vicino al real time o vicino a quell'attività di digital lending end to end che porta a poter fare un'erogazione quasi contestuale alla valutazione perché oggi non è neanche difficile come in passato, oggi con un bonifico istantaneo uno potrebbe fare un'erogazione che non ha i giorni sepa per poter fare poi come dire il perfezionamento della finanziabilità della proposta della domanda del cliente e quindi tutto questo ci permette ad esempio di far evolvere quelli che erano meccanismi e valutazioni rischi in maniera più efficace. Abbiamo nove modelli sulla parte marketing sia per andare a definire campagne sui clienti col giusto target giusta profilazione il giusto prodotto col giusto canale ma anche rispetto al prezzo rispetto alla rischiosità rispetto al loro profilo e vi dicendo e in più abbiamo anche la parte residuale di modelli che utilizzano le tecnologie di natural language understanding e l'optical character recognition per poter andare a efficientare un po' i processi leggere meglio i documenti che ci arrivano riuscire a compattare i tempi di valutazione documentale tutto questo come diceva correttamente Alessandro non per risparmiare ma per liberare tempo di qualità che ci permette di poter fare una consulenza a valore aggiunto un po' più ampia. Una curiosità il vostro è sempre stato un mondo molto B2B2C chiaramente una lavatrice a rate a media world tanto per dire un nome caso implica che c'è un processo real time che dice la signora Maria esci con la lavatrice e con la tua rata ma un po' questo ritardo invece sul B2C poi dimmi che non è vero che siete un po' tutti ma non solo voi un po' tutto sul B2C è rimasto un biglietto è un fatto di rischio cioè di timore di fare danni come qualcuno ha fatto online o da cosa dipende? Questa è una più che giusta domanda perché in realtà il mercato almeno quello che vediamo noi sta un po' cambiando noi facciamo più o meno 3 milioni di valutazioni all'anno 3 milioni di valutazioni all'anno con più o meno una percentuale che va intorno al 50% di erogazione quindi in realtà siamo una piccola industria siamo una banca ma in realtà una piccola industria con più o meno 600-700 mila nuovi clienti che vengono generati ogni anno quindi bisogna avere una macchina industriale di valutazione in realtà gli importi quando sono diversificati e frazionati ci portano a poter fare una valutazione un po' più real time non era così 30 anni fa 30 anni fa per poter portare a casa la lavatrice bisognava aspettare che ci fosse una delibera adesso si va in real time quando ci sono importi più elevati abbiamo già una quota intorno a qualche punto percentuale di valutazione online real time quindi diciamo praticamente non riusciamo a fare ancora il bonifico ma lo stiamo implementando istantaneo ma fra qualche mese lo attiveremo e quindi riusciremo a fare anche l'erogazione contestuale real time su quelle che sono un po' diciamo delle durate un po' più lunghe e un po' dei importi più elevati siamo ancora nella fase di studio col tempo probabilmente arriveremo anche nel caso ad arrivare a una valutazione sicuramente magari non quella di oggi di un giorno un giorno e mezzo magari riusciremo a portarla nell'arco di poche ore grazie Marco Siracusano qui c'è una quantità di marchi che fa spavento il passaggio dal fisico al digitale è stata la storia degli ultimi dieci anni è vero che ci avete quanti 12 mila uffici 15 adesso un numero però ormai quanto rappresenta il digitale per il mondo post e pay allora buonasera a tutti anche da parte mia allora rispondendo alla tua domanda chiaramente sulla parte di machine learning come tutti gli altri intermediari finanziari noi siamo stati un po' costretti a muoverci da qualche anno proprio perché siamo passati da una fase in cui eravamo semplicemente un grande emittente di carte al fatto di aver creato un poi un ecosistema mettendo insieme il mondo dei pagamenti della telefonia più di recente dell'energia e avevamo avuto l'intuizione poi di investire molto sui pagamenti dell'e-commerce e oggi post e pay è un leader dei pagamenti dell'e-commerce allora questa mole non solo di clienti noi oggi abbiamo la fortuna di avere 30 milioni di carte ma 20 milioni di clienti ci ha consentito di essere un po' laboratorio l'avamposto avanzato del gruppo perché non solo per la mole di clienti ma anche per un mondo transazionale che è nostro e quindi noi abbiamo applicato tenete conto alla fine di quest'anno avremo 3 miliardi di transazioni di pagamento con carte quindi è stato un po' un obbligo noi dover anticipare i tempi imparare from scratch tutto il mondo del machine learning del deep learning quello che facciamo tutti ma noi abbiamo dovuto accelerare accelerando poi abbiamo capito quali erano gli angoli ovviamente vi parlo della parte post e pay e noi giusto per darevi l'idea abbiamo dovuto indirizzare col machine learning per esempio 450 milioni di comunicazioni avendo tanti milioni di carte e tanti milioni di clienti le comunicazioni non potevano più essere random non governate e non gestite quindi abbiamo messo sotto algoritmi di machine learning 450 milioni di comunicazioni l'anno 16 milioni di conversazioni perché altrimenti noi ci stavamo perdendo quello che era un po' il governo anche della UX ma poi anche delle ricadute sia di customer care ma anche come grande intermediario come tutti gli altri colleghi devi poi utilizzare il machine learning noi scherziamo all'interno abbiamo assunto di recente moltissimi analisti data scientists per la compliance e per i rischi cosa che prima era inconcepibile da questo punto di vista io quest'anno abbiamo assunto 15 data scientists scherzando all'interno c'è il CRM del bene il CRM del male e quindi il mio cro quest'anno ha preteso di avere i data scientists per governare questo mondo quindi questo è un passaggio importante quello che ci sta fortemente stimolando è la necessità di governare fortunatamente questo enorme modo di transazioni ma ci sta spingendo a pensare in modo completamente diverso nessuno avrebbe mai pensato di dover fatto un esempio banale assumere data scientists per il mondo delle rischi e della compliance nessuno si era preoccupato al nostro interno di governare 450 milioni di comunicazioni quindi il tema che il mondo del digitale ci sta imponendo è proprio un payoff è fine pena mai cioè o impariamo sempre più giorno per giorno a governare con questi algoritmi come giustamente dicevi tu ormai noi consideriamo tradizionale poi il resto è la risposta sulla Genai lo vedremo dopo però questo è un passaggio per noi lasciatemi dire anche tra virgolette di cambio di mindset e per fortuna siamo anche un motore che sta spingendo dal punto di vista transazionale gli altri mondi di poste che sono molto più relazionali credo Marco che la parola digitale con la parola machine learning poi la gente non la usa perché dice digitale perché è più facile ma si sono andati di pari passo in questi anni la digitalizzazione se dietro non aveva la capacità elaborativa algoritmi analytics e quant'altro non lo potevi fare ognuno di noi ha dovuto investire in questo spazio pensiamo banalmente adesso i termini tech i funnel digitali ma senza poi incorporare anche queste modalità rimanevano quelli di vent'anni fa certo beh stamattina abbiamo iniziato parlando di tecnologia perché abbiamo sostenuto ma poi devo dire tutti ci hanno confermato che senza capacità elaborativa in aumento in riduzione di costo nulla sarebbe potuto accadere insieme alla capacità elaborativa ci sono le autostrade senza autostrade Milano-Bologna diventa complesso farla allora sicuramente CBI negli ultimi anni ha fatto dei passi enormi è partita dal famoso corporate banking interbancario che ricordo negli anni 90 che era il core product tra l'altro mi ricordo Credentel che era avanti e oggi invece ho offrito una serie di piattaforme indispensabili per l'open banking poi magari facciamo una flash anche sull'open banking che stenta un po' a partire però insomma un milione di clienti in Italia sette in Inghilterra vuol dire che prima o poi qualcuno lo userà sto open banking no? Raccontaci un po' Liliana quello che avete fatto Sì grazie buonasera a tutti ovviamente un piacere condividere con l'ecosistema l'esperienza di 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 CBI CBI perché ovviamente il modo come noi ci chiamiamo dipende anche dal prodotto o se siamo all'estero o o in Italia trent'anni di ecosistema di industry utility ci ha insegnato molto anzitutto in Italia già trent'anni fa tutte le infrastrutture di cash management venivano condivise e oggi noi effettivamente abbiamo accolto le piattaforme di open banking avendo nel nostro DNA insomma un po' l'imprinting di banca proponente e banca passiva e che oggi servono circa tre milioni di imprese in tutta l'Italia per l'attività dispositiva informativa e di gestione documentale tutto questo per dire che da quello abbiamo poi aggiunto sempre in logica B2B2C quindi come sempre noi rappresentiamo infrastrutture collaborative e autostrade per supportare non solo gli intermediari finanziari ma anche i centri servizi che poi di rimando aggregano ulteriori intermediari finanziari e quindi ci siamo focalizzati anche a creare diciamo la piattaforma che poi oggi ha abilitato circa un quarto dei pagamenti verso Pago.pia mi riferisco al servizio Sibil per i bollettini verso la pubblica amministrazione e verso le utilities e da ultimo tutto il mondo dell'open banking dell'open finance e nello specifico abbiamo lavorato tanto anche con voi per la realizzazione di servizi che possano sfruttare che sfruttano al meglio tutti gli algoritmi sia del machine learning che dell'intelligenza artificiale generativa oggi la sfida è quella di creare una roaming di piattaforma mi piace utilizzare la metafora delle telco visto che ci ho lavorato tanti tanti anni fa e in fondo l'open finance non va che non fa che ricordarci l'importanza del creare un bridge di ecosistemi attraverso un'interoperabilità di piattaforme e noi stiamo facendo questo specifico lavoro in particolare la normativa europea ha imposto su tutti gli intermediari finanziari da ottobre 2025 di mettere a disposizione delle verifiche importanti cioè la corrispondenza tra il nome e il codice IBAN bene noi abbiamo già messo a disposizione sul panorama europeo non solo il servizio name check ma soprattutto accordi di interoperabilità europea con tutte le principali piattaforme di scambio quindi basandoci proprio su algoritmi di intelligenza artificiale anche per restituire eventuali messaggi di errore e questo se ci guardiamo anche le prospettive evolutive che stiamo insomma delineando per il nuovo piano strategico e noi vogliamo sfruttare tutta la potenza delle informazioni che con il CBI core quindi il corporate banking bancario da un lato il CBI e l'open banking open finance dall'altro abbiamo un patrimonio informativo con il quale siamo pronti a mettere a disposizione dei servizi innovativi di data la voglio dire così data analytics ma non è data analytics è qualcosa di più affinché le banche possano servire al meglio i loro clienti hai usato spesso la parola community eccetera noi lavoriamo tanto assieme ma lavorate anche con altri partner credo che questa evoluzione tecnologica da soli sia difficile da fare quindi se non ti metti insieme ad altri ognuno con le sue specificità è quasi impossibile la cosa che effettivamente rende un po' sfidante il lavoro di industry utility noi tutti voi tutti lavorate ovviamente con una multitudine di attori di clienti e quindi di stakeholders però effettivamente il ruolo delle infrastrutture collaborative implica il fatto che la comunicazione molti a molti e quindi il successo di un servizio sia proprio basato non già sull'innovazione del servizio stesso ma dal numero dei soggetti che vi partecipano a quell'ecosistema sia come richiedenti sia come rispondenti e questo è un po' come internet è come il telefono se l'avessimo utilizzato in due quel servizio non avrebbe avuto in sé un suo successo pur avendo la tecnologia alla base grande risonanza e quindi lo sforzo che da più di trent'anni questa realtà porta avanti con diciamo i suoi clienti che non sono in prime se sono gli azionisti ma poi si sono più che ampliati grazie proprio alla normativa PSD2 che ha fatto ovviamente che ha fatto entrare in una filiera dei pagamenti soggetti che prima non avevano uno specifico ruolo noi dobbiamo rendere l'economia di rete completamente interoperabile e assolutamente diciamo efficace di supporto tutti avete parlato di numeri di dati che frullate in tutti i modi possibili immaginabili la GNI si basa su dati non strutturati quindi testo immagine e quant'altro Angelo magari parti dall'esempio che prima ti ho stoppato ma voi come pensate di utilizzarla l'AI generativa in questo mondo di scienziati precisi sui numeri non mi soffermo sull'esempio di prima perché ho Alessandro di fianco ma un esempio che volevo portarvi era il concetto del robot for advisory per tutto i canali sofisticati ma eventualmente credo che Alessandro sia il top da questo punto di vista invece sulla GNI ovviamente qui siamo più in una fase sperimentale pionieristica progettuale provo a raccontarvi qualche sperimentazione che stiamo facendo una l'hai citata molto bene tu cioè il one to one marketing questo è il sogno di qualunque azienda di qualunque settore e di qualunque addetto marketing noi come banche ovviamente io parlo della mia abbiamo una storia molto più grossolana da questo punto di vista la segmentazione patrimoniale il ciclo di vita ecco quello che stiamo provando a fare appunto mettendo tutti i dati su ogni singolo cliente che abbiamo a disposizione insieme stiamo provando anche a fare delle simulazioni di quantum computing perché c'è anche un problema di potenza elaborativa per mettere in relazione in maniera destrutturata tutte queste informazioni e qui il sogno ma ancora non siamo arrivati in fondo è proprio quello di avere un profilo per singolo cliente su cui forse in maniera ancora più efficace puoi costruire non solo una relazione ma anche delle campagne commerciali un altro esempio qui siamo un po' più avanti e quindi posso darvi anche già un primo flavor è legato a diciamo riesaminare tutte le interazioni conversazioni scritte verbali che abbiamo con i canali remoti con i nostri clienti stiamo facendo lo storage di tutti questi contatti quindi mail chat telefonate e le stiamo rielaborando con tecniche appunto di GNI per tirar fuori il sentiment del cliente che è fondamentale tre spunti finora ma abbiamo diciamo qualche decina di migliaia quindi ancora non è solidissimo ovviamente troviamo dei clienti insoddisfatti a cui dover fare caring cogliamo invece dei clienti soddisfatti a cui possiamo fare delle proposte mirate o troviamo dei clienti multibancarizzati verso i quali ovviamente cercare di diventare la banca principale quindi anche questo mi sembra già di poter dire che è un'applicazione molto efficace l'ultima che è carina non è commerciale ma me la raccontavano me la condivido con voi riguarda invece più l'attività rischi controlli che citava Marco Siracusano adesso stiamo provando prendendo nuove norme nuove diciamo indicazioni regolamentari dalle autorità farle digerire anche se sono di solito indigeste appunto a strumenti generativi AI confrontarli con la nostra regolamentazione interna per trovare in automatico i gap e provare anche a costruire per le funzioni di controllo delle checklist diciamo già ready to go quindi credo che sia davvero una frontiera molto e comunque state state facendo molto quindi state investendo parecchie risorse interne per questi lavori usate anche molto soggetti terzi con cui lavorare la collaborazione con i terzi è fondamentale diversi certo poi possono essere dei provider di dati possono essere dell'università ad esempio il tema del quantum computing lo stiamo facendo con l'università possono essere delle start up diciamo che devi fare comunque squadra assolutamente certo e credo che sia un po' il futuro fermo restando che comunque avere delle competenze interne è importantissimo e soprattutto fare sharing avere le persone coinvolte avere noi poi chiudo perché la tengo sempre molto lunga abbiamo una community interna che chiamiamo data heroes di 400 persone che autonomamente da bottom up si trovano confrontano fanno condivisione di strumenti di algoritmi di iniziative e anche questo per me è un grandissimo valore perché parliamo tanto di AI ma secondo me le persone restano il nostro asset centrale Alessandro due domande c'è GNI dove pensate o state puntando i cannoni e la seconda questo tema dell'innovazione non era prevista questa domanda quindi ti obbligo a rispondere come ti viene visto che voi siete sempre edge di tecnologico di innovazione eccetera anche voi poggiate su relazioni esterne i gruppi di lavoro internamente create qualche meccanismo oppure ormai diventa naturale in un'azienda comunque giovane perché ha 20-25 anni 25 questa ne compiamo 25 avere questa innovazione continua quindi le due cose dunque innanzitutto non vorrei darti una delusione noi non è che siamo sul fronte dell'innovazione noi ci definiamo un fast follower cioè siamo sempre molto attenti nel continuare a monitorare poi prima di cominciare a spingerci in maniera decisa in una certa direzione vogliamo essere sicuri che della robustezza soprattutto che sia un qualcosa che ha senso fare perché uno dei rischi maggiori qua è l'innovazione fino a se stessa diciamo qualcosa che è bello è di moda e il rischio però che dopo non fai soldi ecco questo molto banalmente quindi noi siamo quindi noi siamo poi il grande penso che uno dei punti di forza che abbiamo che essendo un'azienda che è un'azienda non solo una banca ma di tecnologia nel senso che proprio noi la sviluppiamo internamente cioè noi le nostre piattaforme e i codici sorgenti sono scritte dalle nostre persone poi l'implementazione è estremamente veloce e il nostro approccio è molto è molto elastico è open mind cioè chiaramente tutto quello che riusciamo a gestire direttamente lo facciamo direttamente dopodiché però ci sono tutta una serie di evoluzioni dove non abbiamo magari le competenze le conoscenze oppure non vale neanche la pena mettere del focus lì e allora cooperiamo però nel momento in cui ti vai a cooperare con una struttura esterna se tu sei un'azienda che ha una profonda cultura interna di sviluppo di tecnologia hai un grado anche di interazione con voglio dire il tuo partner che è completamente diverso rispetto al quale in cui tu sei qualcuno un pochino più passivo e quindi questo ci permette di essere di poter osservare e in questi anni per esempio ci ha evitato di fare dei clamorosi errori cioè poi quando partiamo siamo estremamente rapidi e tutto questo sulla sulla parte di diciamo l'intelligenza generativa anche qui ci piace essere molto pragmatici la stiamo osservando però adesso siamo ancora in una fase dove bisogna scaricare a terra tutto quello che è il grande dividendo che arriva appunto dicevo prima da questa esplosione di capacità computazionale e quindi per il momento noi ci stiamo dedicando in maniera abbiamo tutto sommato molto simile a quello che Angelo stava spiegando prima cioè proprio chi è sul campo diciamo si fa attore di il propositore di processi situazioni che possono essere ottimizzate ottimizzate tramite una gestione molto più sofisticata dei dati perché poi alla fine l'intelligenza artificiale quello che è importante sono due cose uno la base dati quindi la qualità e l'accessibilità di questi dati e poi bisogna metterci dentro l'intelligenza perché voi pensate cosa viene fuori se ho una qualità bassa e ci metto dentro poca intelligenza allora diventa qualcosa di voglio dire un mostro quindi a quel punto è meglio lasciar perdere andare avanti come prima credo che questo approccio del valutare con attenzione l'innovazione sia anche vostro direi di tutte le aziende qui che sono di grandissimo successo perché su alcuni fenomeni buy now per l'ethan eccetto uno mi sembra che entrambi siete stati molto cauti nel fare passi avventati per evitare danni esagerati quindi credo che questo concetto del copiare o comunque essere rapidi nell'execution sia veramente un insegnamento che traiamo da tutti voi Marco tu geneai ci sono ambiti particolari qualche flash non voglio entrare in troppi dettagli però giusto per dare qualche stimolo ai nostri amici come dicevi tu ma noi ci troviamo molto affini a quello che diceva Alessandro sull'utilizzo delle tecnologie che non sono fine a se stesse ma devono essere utili per i clienti e per generare profittabilità noi ci troviamo tra l'altro all'interno del gruppo BMP Peribas poter anche osservare quello che può essere l'esperienza di altre geografie altri mestieri e altre società similari alla nostra all'interno dell'ecosistema BMP e a volte siamo anche noi magari che facciamo da pilota su alcune attività che riguardano il vantaggio di questa esperienza è quella di poter mirare le cose che poi hanno avuto un impatto e che sono state almeno osservate per evitare che magari più geografie vadano a sviluppare stessi tentativi che poi possono portare a successi in successi e lo facciamo sempre con un'attenzione di risk management importante per le attività di natura reputazionale privacy rischi vari che possono essere anche collegate alle attività del nuovo European Act sull'intelligenza artificiale e questo ci permette anche di poter stare attenti a quelli che possono essere gli impatti clienti e gli impatti per noi quali sono concretamente le cose che stiamo vedendo e su cui stiamo facendo un po' da pilota per il gruppo è la fusione come dicevi tu dell'ecosistema della quotidianità delle relazioni che i clienti hanno con il sistema finanziario che sono prevalentemente legati ai pagamenti e adesso grazie al buy now pay later comunque anche alla rateizzazione dei pagamenti finanziamenti e gestione delle proprie spese quindi quello che stiamo elaborando è una modalità per utilizzare l'open banking in maniera intelligente ma con dei use cases che possono avere una finalità perché oggi non si usa l'open banking perché non ce ne si fa nulla si utilizza magari nella valutazione del rischio ma quando ti sto facendo una valutazione se il cliente ti dà l'accesso per poterlo fare cosa che ad esempio nel nostro caso utilizzando i motori di cui prima quando parlavo di rischio ci permette di aumentare la capacità di dare degli accordati sul 7% dei clienti che ci danno l'accesso alla PSD2 ecco clienti che mi risulta sempre più danno l'accesso c'è una crescita costante e noi vediamo che per un fine che in quel caso è l'accessibilità al credito il cliente lo fa però gli devi spiegare che c'è uno use case sconcreto noi siamo alla ricerca di trovare modelli di interazione di educazione con i clienti per la gestione ottimizzata delle loro spese perché vogliamo fare ovviamente il nostro mestiere che è quello di dare credito però lo vogliamo fare sempre più in modalità consapevole in maniera che il cliente lo abbia con trasparenza comprensione di quello che è il prodotto che noi gli diamo ma anche il fatto che abbia la consapevolezza di come deve gestire le proprie spese prossime e future grazie invece Marco Marco l'altro siracusano nel mondo nel grande mondo poste voi siete coloro che in questo momento attraggono tanti clienti vedono tanti dati quindi state lavorando insieme agli altri colleghi perché il tema well management in poste sta diventando molto importante però devi partire da qualche cosa per identificare il cliente potenziale fare delle cose state lavorando su questo portafoglio clienti di gruppo per aumentare il famigerato cross selling o cosa state facendo quali sono le innovazioni del prossimo futuro allora devo dire che noi abbiamo la fortuna ovviamente come poste pay che siamo governati dall'IT di gruppo dal punto di vista tecnologico il gruppo nel piano industriale 24-28 ha investito moltissimo quindi sono moltissime risorse che sono state messe su tutta la parte di sviluppo IT con una grande focalizzazione sull'AI poi consentitemi abbattutamente sono anni che tutti quanti lavoriamo con il tema del machine learning l'AI generativa l'anno scorso pensavamo fosse un convegno e stavamo tutti quanti a studiare adesso dopo un anno solo siamo superati a destra e a sinistra quindi questo ci dà un po' la cartina di tornasole di un fenomeno che ci è esploso in mano anche come industrie perché ci sono industrie più avanzate altre meno avanzate quindi questo sicuramente è un qualcosa che ci sta mettendo in movimento dal mio punto di vista anche positivamente perché la Gen-AI ci obbligherà ad avere un ciclo di innovazione perpetua lasciatemi dire quel famoso fine pena mai che citavo sulla prevenzione delle frodi diventa un fine pena mai su un tema di innovazione continua e questo sicuramente è un bene poi mi leggo a quello che diceva Alessandro sicuramente sarebbe un errore mortale pensare che l'intelligenza artificiale sia un tema di riduzione dei costi perché quello secondo me è un tema sbagliatissimo mentre quello che deve servire ad aumentare sì la produttività ma ad aumentare dei nuovi modi di lavorare e di operare torniamo vi faccio soltanto un esempio perché gli esempi sono tanti allora gli investimenti che ripeto guidati dall'IT di gruppo noi partecipiamo con le altre business unit ad una come dire ad un'evoluzione noi abbiamo negli ultimi anni 100 milioni di download di app però avevamo tre app l'app di Banco Post l'app di Poste Pay l'app dell'ufficio postale è stato deciso a livello di gruppo di fare qualcosa all'inizio devo confessare perché anche io ero un po' perplesso ma come devo rinunciare a 30 milioni di app Poste Pay invece il disegno che poi è stato laborioso che ha visto tutto il gruppo al lavoro ha portato a utilizzare moltissimo la Gen.ii ad un percorso di iper personalizzazione che sta portando oggi alla creazione di un'unica app che già ha 10 milioni di download di Poste Italiane nuovo launcher EP dentro cui stiamo facendo convergere tutte le altre app ma i meccanismi di intelligenza artificiale stanno facendo in modo che tutti quelli che si stanno onboardando dalle tre app diverse nella nuova app è come se fossero a attendere 40 milioni di clienti ognuno con la sua app e questo devo dire e vi faccio solo questo esempio per non perdere diciamo troppo tempo è un percorso che anche lì ha avuto un ciclo virtuoso di mettere insieme le varie anime di business di un gran gruppo come Poste Italiane che guidati dall'IT di gruppo abbiamo deciso ognuno di abdicare ma come dire abdicare all'identità delle varie divisioni era alla fine un obbligo perché la contropartita che abbiamo avuto che l'app sarà unica l'app di Poste del gruppo ma lì per personalizzazione consentirà a tutti i clienti delle tre app di continuare a vivere la loro esperienza e di modificarla in ragione poi anche del cambio del ciclo di vita tra l'everyday di Poste Pay al mondo del wealth di Banco Post e così via ma credo lo diceva prima anche Angelo questo tema del one to one marketing iper personalizzazione poi vediamo dove arriveremo come diceva Alessandro però credo che sia un dichiarato di potenziale futuro della GNA è straordinario poi adesso strada facendo capiremo se realmente lo è o se invece ci fermiamo un po' prima Liliana ci chiudi il panorama dicendoci a livello di piattaforme evoluzioni chiaramente sempre quello che ci puoi dire cosa avete in mente per i prossimi anni come pensate dove pensate di mettere sì grazie ovviamente questo periodo ci vede anche molto impegnati nell'aggiornamento del piano strategico quindi in un arcopiano fino al 28 noi stiamo mettendo assolutamente al centro tutto l'utilizzo della GNA e soprattutto per alcuni servizi che vedranno la concorrenza e quindi la necessarietà per una struttura come un'azienda come noi quindi le nostre piattaforme di mettere insieme dati promananti da diversi soggetti diverse piattaforme e che potranno restituire informazioni qualificate per voi banche mi riferisco ad esempio al servizio che noi abbiamo brandizzato CBI Safe Trade che vuole essere proprio sono più o meno 25 anni che mi sento dire ah ma la sicurezza sull'anticipo fattura a livello di sistema finanziario comunque dare la possibilità ad un intermediario di verificare anzitutto l'esistenza la bontà visto che abbiamo in Italia l'obbligo della fattura B2B B2C e quindi questo era un tema quindi la possibilità grazie a questo servizio di poter dare alle banche in primis diciamo la verifica dell'esistenza ma soprattutto la conoscenza di quanta parte o meno è stata anticipata barra ceduta e soprattutto sfruttando un ruolo che sta arrivando con la direttiva FIDA noi vogliamo integrare informazioni anche diciamo che arriveranno con la collaborazione di ERP e quindi restituire all'intermediario una suite di informazioni che si sommeranno in maniera sinergica non solo su quello che è la vita della fattura anticipata barra ceduta ma anche su quello che può essere il corollario rispetto ai servizi che gestiamo con il CBI Core il Cash Management o altri servizi che si diciamo le cui informazioni sono all'interno gestite dagli ERP quindi la FIDA ovviamente dà a tutti gli intermediari la possibilità di sfruttare diciamo l'informazione sia in logica diciamo offerente che richiedente e quindi l'open finance qui torna a supporto e come stiamo ascoltando la mole delle informazioni la qualità l'accessibilità l'autenticità e la consistenza daranno insomma a chi poi volge lavori di infrastruttura tanto lavoro per i prossimi anni quindi l'aggregazione dei dossi e titoli arriva come obbligatorietà e questo per esempio è un altro quello sarà riguardo loro due un cambiamento epocale loro due magari lui è un po' interessato ma loro due secondo me tutta la documentazione a supporto del trade in tutti i sensi tutta la documentazione a supporto del trade diciamo vuole essere un'altra sfida che vogliamo insomma far cogliere e quindi dare agli intermediari finanziari nuove fonti informative assolutamente qualificate da cui poi potranno evidentemente con delle forme di dashboard chiamiamo white label non insomma personalizzabili in funzione del cliente finale una suite informativa attraverso cui poter arricchire la base dei dati e quindi l'offerta al cliente finale sentite grazie mille credo siano stati tutti interventi che dicano che la tecnologia già la usate tanto vi ha fatto fare passi da gigante sulle nuove tecnologie giustamente grande cautela però mi pare che di sottofondo l'idea che potrà aiutarvi a fare ancora meglio ci sia poi esattamente cosa cosa dove quando vediamo con attenzione con voi chiudo aspettate applaudire con voi chiudo una domanda qui non appare nulla ecco qua che stamattina ho dichiarato essere un po' per joke quindi non voglio essere troppo serio questa domanda che quando cos'è stato un mese fa c'ha GBT è uscito con l'ultima versione i titoli dei giornali erano tutti adesso le macchine pensano le macchine sono lì in fianco a te che pensano come te abbiamo fatto questa provocazione dopo vi faccio vedere i dati se poi me li mandano di tutti quelli che hanno risposto credo parecchie centinaia di persone non vuole essere una risposta troppo ragionata perché staremmo qui a fare filosofia magari anche un po' di religione che non è esattamente il nostro mandato ma vuole essere una risposta di pancia per cui detto che pensare vuol dire tante cose perché vuol dire sia elaborare sia risolvere situazioni complesse sia anche un po' di autocoscienza quindi è un concetto molto ampio però di pancia Angelo nel futuro queste macchine penseranno veramente guarda avrebbe da prendermi un quarto d'ora ma no no non devi mi vengono in mente due cose uno non so se lo ricordate Blade Runner il film di Ridley Scott e lì il dubbio che le macchine possano pensare credo che ce l'abbiano messo sotto il naso il secondo che non c'entra è totalmente Cartesio Cogito Ergo Sum che ci dice la consapevolezza dell'uomo la capacità di essere dubitativo io credo che finisco ti dico la mia dopo vai credo che le macchine potranno decidere un credito sì potranno decidere l'asset allocation di un portafoglio sì però io credo nella supremazia dell'uomo no la tua risposta è no temo di sì e ti dico perché dico temo di sì perché è chiaro che a tutti è chiarissimi perché d'altra parte si hanno fatto già da anni fa dei film che facevano vedere quello che poteva essere la degenerazione di una situazione di questo genere quindi penso che sia chiarissimo a tutti quello che è il confine che probabilmente però evidentemente come possiamo immaginare ci sono anche diciamo organizzazioni situazioni o stati che voglio dire che hanno degli obiettivi che non sono esattamente quelli di cui noi stiamo discutendo adesso e che quindi potrebbero sicuramente spingersi avanti su questa frontiera proprio per questo motivo quindi tecnologicamente penso che possa essere ci siano le condizioni e il rischio che questa barriera cada c'è esattamente per questo motivo se cade la barriera sono dolori questo è sicuro Liliana quello difficile lo so ragazzi no 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 agosto scorso è uscito il regolamento AI istintivi però istintivamente dico questo che oggi noi abbiamo la sfida dell'algoretica cioè ciò che ci restituisce una macchina rispetto a come diciamo gli algoritmi sono stati quindi io non mi preoccupo tanto del pensiero se può o non può pensare la macchina ma che tipo di pensiero può elaborare questa macchina in funzione dell'etica con cui gli algoritmi sono stati sviluppati e la cui semantica non è omogenea a livello globale quindi si introduce un po' la governance le governiamo nostre macchine tra 30 anni magari in un area in un modo in un'area in un altro è un aspetto politico direi Andreottiana è l'aspetto politico Marco allora il pensiero logico e razionale credo che ci siamo quasi quindi diciamo spero che nelle elucinazioni vengano mantenute limitate però ci siamo quello emotivo e che mette un po' di coscienza umana penso che sia un po' più complicato sicuramente sì ma non avranno mai lo human touch vabbè quindi forse ci va bene forse adesso chiudo con la statistica se riuscite a mandarmela vediamo è pazzesco è pazzesco però io lo trovo io lo trovo straordinario che vuol dire che è di pancia perché qui veramente potremmo stare qui giorni a dibattere però di pancia c'è comunque un dubbio di fondo come diceva in particolare Alessandro che queste macchine penseranno veramente quando pensano sono dolori perché se pensano l'uomo non serve a niente a sto mondo anzi fa solo danni con l'ambiente con le guerre quindi se dovesse accadere quindi devo dire che fa riflettere vabbè era un gioco però direi finiamo qui grazie a tutti grazie a voi e buona serata grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti